E ciao a tutti ed eccoci qui con un altro video, oggi proverò il multiplayer competitivo. Allora, facciamo il crogiolo questo, o questo. Proviamo a far questo, partita veloce. E speriamo che mi trova la gente subito. Dai, dai. Io ovviamente taglierò finché non ha trovato la gente. Ah, 6 su 8, che mi sa che non taglio. Scusatemi molto se parlerò poco, ma mi devo concentrare, se no mi sa che mi fanno il culo. Rispetto allo scorso video, ho cambiato il pezzo di armatura, ho messo questo e prima avevamo questo. E poi ho trovato anche un'arma, che è questa qua, la Morrigan D, che cambia poco nulla rispetto a quella che ho già. Solo che sto qua in lancia razzi, l'altro è un fucile a fusione. Io metterò in lancia razzi, va. Mitraglietta, fucile a impulsi, cannone portatile, no, no, lasciamo il fucile automatico. E nulla. Ok. Siamo in orbita, ma perché gli altri hanno le navi diverse? Come ho fatto a trovarle? Ovviamente è la prima volta che gioco nel multiplayer. Ovviamente di Destiny 2, vabbè, in Destiny 1 ci ho giocato, eh. Controllo. Ok. Questo qua è il controllo. Sì. È uguale a controllo di Destiny 1, suppongo. Tolto che non so dove sono le zone. Qua non le indica. Dove sono le zone? È controllo, ma... Ah, adesso me le fa vedere, vaffanbagno. Ok. Oh, bene, bene. Dobbiamo prendere... Andiamo a recuperare C. No, no. Con che arma mi ha ucciso? Ok. Niente fumatina mentre si gioca, perché al multiplayer devo essere concentrato, sennò mi fanno il culo. Ok. In teoria l'ho ucciso io, forse. Ne ho dietro? Dove scappa sto qua? Mamma mia, se odio st'arma. Mettiamo... Ok. Mamma mia, rinculo che ha l'arma esotica. Eh, niente. C'avevo la pompa. Mi ha fottuto. Dai, dammi la assist. Niente. Due morti e forse un'uccisione. Eh sì, eh. Oh. Così va meglio. Ce n'è uno qua. Dov'è? Ah, non ce n'era uno qua. Vabbè. Minuto e ventiquattro per le munizioni pesanti. Andiamo a subì. Dai! Ok, abbiamo conquistato. Non lo so. Qui da me sta pure tuonando. Beh, scappi. Guarda! Un pelo di vita. Dai, dammi l'assist. Eh, vabbè. Dai dietro. Oh, dai, dai, dai. Mi scaldo un po'. Poi gli faccio il culetto. Eh. Eh, volevi, volevi? Prendermi a... Ah, è mia. Dunque. Dunque. Ullalala. Dov'è? Finita la granata? Dai. Sempre per un pelo. Niente. Dai. Bastard. Minchia, che armona. Dai, non tuonare. Prendiamoci, va. Dai. Lo sento, stanno per arrivare. Eh, niente. Però la... Ci l'ho conquistata, in teoria. Vendetta. Oh, mi son vendicato. Non ce n'era un altro. Come? Bastard. Eh, sì. Mi ha fregato, eh. Però ho conquistato B, in teoria. Adesso tanto ce lo ripigliano. Allora, eh. Stiamo perdendo. Di dieci punti. Dai. Caricami sta super. Non puoi uccidere i nemici, se sono già morti. Hai conquistato la zona A. Avete la zona di vantaggio. Zona C, persa. Ti hai rotto i cabbasisi. Oh. Uh, c'ho la super. Però non devo sprecarla. Fuuu. No, dai. Per un pelo. Dai, dammi l'assist. Oh, almeno l'assist l'ho avuto. L'ho usata un po' la cavolo, eh. La super, però. Meglio che nulla. Stiamo recuperando, ma siamo ancora in perdita, eh. Uh. E la miseria. Eh, niente. Un pezzo della super del mago mi ha beccato lo stesso. Era già tanto se l'avevo evitata al 99%. Ma perché scappano sempre tutti? Mamma mia. Grande. Eh, ma mi sa che non vinciamo. Uh, la miseria. Mi sa che aveva l'arma pesante. Questa. Dai. Conquista. Dai Oh Eh voleva scapparmi via Sto qua 62 67 Possiamo ancora recuperare Andiamo da C No E niente abbiamo perso Non di molto eh 6 punti Ah poteva andare peggio come prima partita nel multiplayer Vediamo Sono pure primo della mia squadra Eh dai Niente male Torna in orbita E nulla Per questo primo video sul multiplayer è tutto Noi ci becchiamo con il prossimo video sul multiplayer Ciao ragazzi Ciao becchiamo a tutti